Buongiorno a tutti, sono NM2, siamo qui per fare un pronostico alla cazzo di cane Perché io non sono capace di fare pronostici Perché io, come possiamo dire, non sono un cultore di calcio Perché qualcosa ne intendo, ma non è che sono così bravo Però voglio fare un pronostico Anche perché lo stanno facendo tutti quanti, voglio fare visual Semplicemente per questo motivo qua Ora, ci vediamo un attimo chi penso che possa passare Tanto noi le prendiamo su serio queste cose qua, no? Quindi, in caso comunque, io per l'Italia, io dico che arriverà seconda comunque Rettiamoci le palle sperando che passi Perché comunque potrei portare sfiga Ma secondo me arriverà seconda Perché seconda? Perché non la vedo bene Stop Io l'Italia non la vedo bene da anni E non la vedo bene neanche questo europeo Però penso che almeno seconda ci possa arrivare Non so perché me lo sento che farà qualche cazzata Per far arrivare seconda Poi il primo posto, secondo me, se lo becca la Turchia Il traduttore fa le cose quando vuole E la Svizzera come terza E chiaramente il Galles verrà buttato fuori Perché penso che non abbia le possibilità di farcela Onestamente Mentre, che ne so Le altre squadre mi sembra che qualcosa possono fare Secondo me il Galles è quello che prende Secondo me le prenderà tutti quanti Non prima l'Italia Cazzo, ok Poi la Svizzera terza Perché sì La Turchia la vedo come prima L'Italia può arrivare seconda Potrebbe anche arrivare prima l'Italia Solo che nel mio pronostico la foto come seconda La Svizzera la vedo come terza Comunque saranno tutti quanti lì coi punti Non è che ci sarà quel grande distacco secondo me Trenne col Galles Allora sarà un bel distacco Secondo me non riuscirà a fare quel gran che Poi colpo di scena arriva primo Galles Però non credo Poi il girone B Secondo me il Belgio passerà a primo Perché è troppo più forte in confronto agli altri Qui la Finlandia è sicuramente quarta E fin qui ci siamo Poi adesso chiamiamo il grande dubbio Russia e Danimarca Che potrebbe arrivare secondo e terzo Io penso che possa arrivarci la Danimarca Uno perché mi piace come squadra Due perché Secondo me la Russia arriverà terza Ma sarà un secondo di stacco molto breve Tra Danimarca e Russia Cioè che ne so Il Belgio secondo me domina con nove punti Li batte tutti e tre Però secondo me che ne so Danimarca e Russia si faranno uno scontro Secondo me si decide tra loro due Secondo me si sfideranno E decidiranno loro chi vincerà Secondo me sarà 9-6-3-0 Il punteggio Poi mi sbaglio Però Secondo me sto qui E come sarà Poi Gruppo C L'Olanda Secondo me arriverà prima L'Ucraina Arriverà seconda Perché E l'Ucraina E le altre due squadre Che cazzo vuoi che facciano Terza l'Austria E quarta la Macedonia Perché la Macedonia Onestamente Che giocatori ha Poi Quest'anno Vince la Macedonia L'Europeo Però dubito fortemente Non è una squadra Che secondo me possa avere Qualche possibilità di vincere L'Oste Europeo Poi con le squadre che ci sono Cazzo vuole fare Poi andiamo Agli altri tre gruppi Secondo me Il principio Quelli che Passano sicuro Sono sti due Comunque La Scozia Arriverà quarta E la Repubblica Cerca Arriverà terza E fin qui Siamo tutti quanti d'accordo Per me L'Inghilterra Quest'anno La vedo bene Non ho visto benissimo La squadra Ma mi sento Che quest'anno qui Andrà abbastanza bene Quindi la vedo come prima Mentre non c'è la Corazia Arriverà seconda Non ditemi punti Perché non posso saperlo Ma Penso che sarà così Poi per il gruppo E Penso che la Spagna Essendo molto più forte Secondo come tagliate Arriverà prima La Svezia arriverà seconda Nonostante la mancanza Di Slater Terza la Polonia E la Slovacchia Ultima Perché la Slovacchia Che cazzo vuole fare Con queste tre Questo invece Oggi non è più difficile Ho visto altri Un youtuber Che vedono L'Ungheria Come ultima Uno ho visto Che era messa seconda Se per caso Sapete che intendo Sapete E io la vedo Come ultima L'Ungheria Perché secondo me Le altre squadre Sono troppo più forti La Germania La vedo come terza Perché Sento Che farà qualche Cappellata La Francia Arriverà prima Perché non può Premattersi Di arrivare seconda Poi ha vinto Il mondiale Secondo me Se la sente molto E Portogallo Ovviamente è secondo Perché Stop Perché è Portogallo Mi va bene così Buon perfetto Ho capito che siamo Andati d'accordo Allora Tra tutte quante Secondo me La Svizzera Sicuramente La Germania La Polonia E abbiamo queste tre Qua finali Secondo me la Russia Ausere Repubblica C'è che non ce la fanno E Ci siamo Abbiamo contato tutti quanti Continua Ok va bene Sedicesima Belgio Polonia Tacchino Turchia E Ucraina E Ucraina Non so perché Non è traduta Tacchino Francia e Svizzera Croazia e Svezia Spagna-Russia Inghilterra-Portogallo Olanda-Germania E Italia-Danimarca Beh buono Non c'è andata tanto male Belgio-Polonia Secondo me passerà il Belgio Perché la Polonia Che cazzo vuole fare Col Belgio Se ne frega Tanto comunque Non me ne frega Un cazzo delle sveglie Allora Il Belgio passerà il primo Perché la Polonia Va bene che lei vandoschi Però il Belgio è il Belgio È arrivato È una squadra molto forte Dubito fortemente Che le prenda Col la Polonia Poi Chi lo sa Forse La Polonia Vince l'Europeo Ma Io sto cercando Di fare il mio pronostico Che va come voglio io Le decido io le cose Quindi non rompete il cazzo Ucraina Turchia La Turchia L'Ucraina va bene Che è abbastanza forte Ma Secondo me la Turchia Qualcosa in più Francia Con la Svizzera Cosa volete che faccia La Svizzera Con la Francia Croazia Svezia Allora La Croazia Quest'anno Alcuni la vedono male Ma secondo me Il fatto che Sono arrivati in finale Del mondiale L'ultima volta E secondo me Non vorranno andare male Quest'anno L'Europeo La Svezia È forte Ma secondo me Non è abbastanza Per poter battere la Croazia Spagna-Russia La Spagna Vince a mani basse Sì L'ultima volta C'è Sanca Mondiale Questa cosa qui Quindi secondo me La Spagna Sarà ancora più volenterosa Di battere la Russia Si vorrà vendicare Di quello che è successo Al mondiale Se non erro Era finita così Spagna-Russia Poi chiaramente È possibile che Sono un coglione Mi ricordo male Controlliamo Infatti È finita Quattro tre rigori Per la Russia Secondo me Siamo guardate La Spagna Invece Vorrà vincere Perché Vorrà vendicarsi Quello che è successo L'ultima volta Inghilterra Portogallo Secondo me Passare in Inghilterra L'ho detto che Io quest'anno In Inghilterra La vedo bene Va bene che Portogallo Ha Cristiano Ronaldo Ma secondo me In Inghilterra Quest'anno Come molti La vediamo Tavanti bene Quindi anche Per me Passa in Inghilterra Spagna-Sportogallo È stata una bella sfida Però vedo che In Inghilterra Ci crede di più Olanda-Germania Secondo me Passa l'Olanda Perché l'Olanda È molto volenteosa Dopo che è stata Sclusa anche lei Dalla mondiale Soprattutto la Germania La vedo Alla fine Di un ciclo Ormai E penso che Come molti vedono La vedono così E Italia-Danimarca Potrei dire Danimarca Però Onestamente Io penso che l'Italia Possa passare Con la Danimarca Avrà delle difficoltà Non può passare Ricordo Questa prossima Qui lo rifarò Quando ci saranno I knockout Non mi ricordo Come si chiama L'italiano Avete capito No? E infine Andiamo Belgio Turchia Belgio Turchia Io La Turchia Non credo Che possa battere Belgio Non credo Che abbia speranze Possibili Di vittoria Abbiamo Francia-Croazia Io penso che la Francia Ripeterà un'altra volta Quello che è successo Alla mondiale Battendo la Croazia Nonostante la Croazia ci proverà Ma la Croazia Ha giocato di troppo vecchi E secondo me Questo qui anche Pian piano Il ciclo deve finire Quindi La Croazia non riuscirà mai A battere la Francia La Francia è troppo più forte E avremo quindi Francia-Belgio Poi invece abbiamo Spagna-Inghilterra Spagna-Inghilterra È molto complicata Come partita Ma se Ma secondo me Passa la Spagna So che molti Vedono come l'Inghilterra Che andrà avanti Però Io voglio fare Invece il contro Il contro di molte persone Che l'Inghilterra In finale Molti dicono Secondo me C'era Spagna Riuscirà a battere L'Inghilterra Però con Molte difficoltà Poi abbiamo Olanda-Italia Olanda-Italia È una sfida Che sarà molto complicata Molto complicata Da decidere Chi possa passare L'Olanda è una squadra Che è forte Ma ultimamente Non è che Stia facendo benissimo L'Italia invece È la nostra nazionale Ma sappiamo che Non è che Navichi in buone acque Però Vedo che l'Italia In questo percorso qui Con l'Olanda Possa farcela vincere Poi forse Viene buttata fuori i gironi Però io vedo Che possa arrivare In semifinale Se per caso Ha un percorso del genere Beccando Danimarca E Olanda Penso che sia piuttosto Possibile Che ce la possa fare Un altro motivo Per cui vedo l'Italia Come seconda È questo qua Perché arrivare ai secondi Penso che sia meglio Di Bacchi Queste possibilità qua Poi Chi lo sa Forse mi sbaglio Ma Secondo me Sarebbe abbastanza interessante Come via E comunque Italia-Spagna Sarebbe un bello scontro Poi abbiamo Francia-Belgio Francia-Belgio E sarebbe una ripetizione Anche questa qui Del mondiale Che era successo Anche questa cosa qua Francia-Belgio E Belgio L'ha perso L'ultima volta E io vedo che perde Di nuovo Ancora un'altra volta La Francia ci arriverà In finale Senza troppi problemi Batterà il Belgio Perché è troppo più forte Non è che è troppo più forte È più forte Ha giocatori troppo forti Perché possono perdere Secondo me Come il Belgio E poi abbiamo Spagna-Italia Spagna-Italia È un'altra partita Che è Interessante Ma secondo me Passerà la Spagna Perché l'Italia Contro la Spagna Non ha speranze Onestamente L'Italia Va bene che ha Poverre quello che vuole Ma la Spagna Non poteva Non può perdere Secondo me E Anche se sarebbe passata L'Inghilterra L'Inghilterra Avrebbe battuto Anche l'Italia L'Italia È una nazionale Che secondo me È buona Ma non abbastanza Da poter battere Squadre come Spagna Francia La Croazia Il Belgio Non potrebbe avere Secondo me Possibilità di vittoria Quindi fine avremo La finale Francia-Spagna Francia-Spagna Credo che sia Una delle sfide Più Diffici Da dire Da prevedere Anche se chi lo sa Si può andare a finire In questa maniera Qui Non si sa mai Ma Abbiamo detto Da dire Il mio pronostico Io Vedo la Francia Come vincitrice Dell'Europia Quest'anno Perché La Francia È ancora troppo Più forte Degli altri Ha vinto Ha vinto il mondiale Ha una squadra Forte Ha un bappé Dentro in squadra C'è un bappé Giusto Non è che per caso Si è stato scluso Dari convocati A caso Vero Non mi sembra E Ha comunque Quella spinta Che I francesi hanno Soprattutto I francesi sono forti Questi ultimi tempi Secondo me Quest'anno Riusciranno a vincere L'europeo E si confermeranno Campioni Quindi Confermeranno La loro forza Quindi diventeranno I campioni di Europa E i campioni del mondo Saranno Prossimo mondiale Non credo che Però riusciranno A fare questo percorso Però chi lo sa Io saremo il pronostico E La Francia Secondo me Sarà Il vincitore Poi Chi lo sa Come detto Non si sa mai Nella vita Poi Vince l'Italia L'europeo È impossibile No davvero Chiunque abbia detto Che dice Che l'Italia Vincerà l'europeo Non capisce Un cazzo di calcio A sto punto Non è una frecciatina No no Non è una frecciatina A qualcuno Che ha detto Che l'Italia Vince il mondiale Sicuro succede Guarda Allora Che l'Italia Arrivi L'Italia È una squadra Che I gironi Li passiamo Bene C'è tanto che Forse ci riusciamo A passarli Perché non è L'ultima parola Poi Abbiamo detto Noi potremmo anche uscire Qua con la Danimarca C'è la possibilità E non è che siamo fortissimi Ragazzi L'Italia non è una squadra forte Poi siamo imprevedibili Potremmo per davvero Arrivare fin qui E vincere L'europeo Però Non credo proprio Non credo che questo qua Sia il nostro anno Secondo me Abbiamo ancora Aspetta due annetti Che la gente maturi Perché comunque I giocatori ce li abbiamo Ma devono maturare Poi abbiamo ascolto Gente forte Quest'anno E Quindi Secondo me L'Italia Secondo me Il mondiale Potrà dare qualcosa Perché abbiamo Un annetto Per prepararci Giocatori Secondo me Si prepareranno Per bene Si farà Nell'inverno Del 2022 Quindi Abbiamo un bel po' Di tempo Per prepararci E Vediamo Come potrebbe andare Io spero bene Spero che non facciamo La figura di merda Che abbiamo fatto Nel 2017 2018 Vabbè Quando siamo stati buttati fuori Comunque dal mondiale Lo sapete Quindi direi che Adesso vi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Che non so che cazzo sia Comunque Questo qui Non lo l'edito neanche Lo pubblico così E Quindi ci vediamo Al prossimo video Ok Va bene Sono tornato Ragazzi E Ci sarà la seconda parte Del video adesso Con il mio amico Buongiorno Nevelini Evviva Eccolo qua Finalmente Sono riuscito a farlo venire Adesso Quella è la seconda parte Del video La prima parte Avete visto io Coprire tutto quanto E ho parlato molto Il mio amico invece Lo farà in 5 minuti Perfetto Iniziamo Gruppo A Secondo te chi passa Italia Galles Turchia Svizzera Vada con la Turchia A che posto In Francia Ma che in Francia Devi dire in primo Secondo Terzo Quarto Allora Turchia Va a secondo posto L'Italia Come sempre Quarto posto No dai poveri Intanto sappiamo entrambi Che l'Italia Va sempre Quarta Io l'ho perretta Come seconda Poi comunque Galles fa schifo Te lo dico già Fa schifo È una squadra così Allora Allora Italia prima Galles quarto E Francia terzo Francia Svizzera Ups Gruppo B Gruppo B Dimmi chi c'è Russia Belgio Danimarca E Finlandia Li vedi no? No Non li vedo Adesso li vedo Ok Tu 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 Che passa Russia Russia prima Belgio Quarto Danimarca Secondo Finlandia Terzo Una persona Fandica Una persona Che adoro Il calcio Tirebbe Tammazzerebbe Il belgio Una squadra Gli sporti Al mondo A meno terza Gli odiamo Dai A meno terza Dai su A meno terza Gli odiamo Va bene Gruppo C Ti dico solo Che l'Olanda È la più forte Tra le quattro Stop Allora Olanda Seconda MKD Prima Macedonia Macedonia Come prima Ucraina Quarta E Out Terza Va bene Gruppo D Gruppo D Inghilterra Croazia Repubblica Ceca Scozia Repubblica Ceca Seconda Inghilterra Prima Croazia Ultima Allora Allora Ragazzi Prima che mi Solpiate Nei commenti Io Non ne so Un cazzo Di Calcio Proprio Calcio Quindi Non lo so Potete Per insultarmi Però Io non ne so Un cazzo Quindi Grazie Quarta Vai con il gruppo Polonia Spagna Svezia Slovacchia Spagna Prima Polonia Seconda Sv Terza E Sv K Quarta L'unico Girone Che ha Senso Portogallo Francia Germania Ungheria 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 Fa schifo Te la metto Quarta Perfetto Germania Prima In classifica La Francia Vinta il mondiale Francia Terza Portogallo Seconda Va bene Che arriva Invece Che è il miglior Terzo Tra tutti quanti Francia Ok Poi Altri tre Puoi dirne Vai con Austria Preveglio E l'ultimo La La Svizzera Vai La povera Svizzera Se ne è andata a puttane Via Perfetto Sedicesimi Russia Svizzera Italia Olanda Germania Austria Repubblica Spagna Ha più o meno senso Tranne l'Occitania Francia Ma per il resto Ha più o meno senso Russia Svizzera Russia Svizzera Vai con la Russia Italia Olanda Italia Germania Austria Repubblica cieca Polonia Polanda Polonia Repubblica cieca Polanda Ok Spagna Belgio Spagna Inghilterra Portogallo Inghilterra Macedonia Francia Macedonia Al serio Francia Danimarca Ok va bene Prossimo Russia Italia Italia Vai così Andiamo avanti Germania Polonia Germania Ok I due nemici Che si spanno avanti Spagna Inghilterra Spagna Francia Danimarca Francia Ok va bene Italia Germania Italia Grattiamoci le palle Sai cosa Sai cosa Voglio fare Vero Spagna Francia Francia Grattiamoci le palle Riprendiamoci la gioconda Italia Grattiamoci le palle Grattiamocene tantissimo ste palle Grattiamocene tanto tanto Oddio che casino Va bene Credo che questa Questa predizione Sia vera Probabilmente Ti baciamo E ti sposiamo No Io ho già una ragazza Non voglio Prova per più ragazzi Fai l'arem Ti fai l'arem No che schifo Comunque Direi che è incredibile Le tue predizioni Sorte molto interessanti Secondo me Io ho già fatto vedere Le mie predizioni Le ero anche documentate Sicuramente saranno Tutte quante sbagliate Le invece le ho fatte Da cazzo di cane E saranno tutte quante giuste Siamo sicuri È sicuro come loro Che va così Ragazzi Fate anche così Durante le verifiche A scuola E andrete sempre bene Così si fa Cazzo Io direi che da M8CM2 Tipo Lucas 027 Tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Che sarà Sicuramente Editato Bye Bye